fuffi fuffi come va bene 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 giochiamo a uno guarda io sto giocando a uno vuoi giocare con me sì sì dai dammi la carta dammi la carta giochiamo insieme ecco perfetto allora guarda quando esce il colore giusto devi mettere la carta lì va bene se non hai carta ne devi prendere una nuova ok va bene va bene ok perfetto capito allora guarda un po che colore c'è verde verde benissimo ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto ehi ragazzi che state facendo di bello noi stiamo giocando a uno che bello che bello che bello è un gioco divertentissimo sì froggy stiamo giocando un po insieme anche se a distanza lo sai perché perché se no a casa ci annoiamo non sappiamo che fare e invece è importante giocare e allora lo possiamo fare anche attraverso il video da lontano io e fuffi ci stiamo divertendo moltissimo certo è un po complicato però ci si può sempre divertire che bello che bello allora la prossima volta gioco anch'io con voi certamente ci dobbiamo trovare un gioco per tre per giocare tutti quanti insieme va bene fuffi ti sei divertito sì moltissimo e ho pure vinto è veramente divertente questo gioco lo rifacciamo la prossima volta lo rifacciamo anche domani dopo domani dopo 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 domani ancora sì 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 va bene possiamo farlo ma adesso non esagerare tutti i giorni tutti i giorni poi facciamo qualcosa qualcos'altro anche di più divertente se no anche gioco giocare a uno poi diventa noioso eh va bene e poi ci dobbiamo preparare nei prossimi giorni lo sai che ci dobbiamo preparare per che cosa alla pasqua alla pasqua io lo so io lo so è pasqua è pasqua è pasqua è pasquetta che bello si mangiano le uova si mangiano i dolci è vero ci possiamo mangiare tante uova di pasqua davvero bellissimo anzi buonissimo io adoro la cioccolata anche io anche io e anche tutti i dolcetti di di pasqua come la colomba davvero bravo buono buono ci mangiamo anche la colomba allora allora domani ci vediamo e mangiamo insieme bell'idea bell'idea nel frattempo vogliamo continuare la nostra partita io voglio la rivincita perché tu hai vinto e voglio adesso voglio di nuovo fare un'altra partita va bene ok ok va bene allora alla prossima partita ciao 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 ciao